Come andare in Grecia praticamente, andiamo fino a lì poi basta, è come andare in Grecia, il panorama deve essere molto più bello. Signora come va? Dobbiamo un messo di cappello e acqua. Venga con me, venga con me, la tengo io. Non vai là in alto, guarda, c'è anche là in alto. Per vedere il panorama? No, non ci vado. Guarda che io non voglio mica farmi venire un colpo, arriviamo fino lì poi basta. Non ci vado, non ci vado. Grazie per la visione, per la visione del futuro che si riprende così con la telecamera.